Il bimbo è stato già dimesso dalla pediatria, mi sono informato, sta bene, non ha avuto nessuna conseguenza. Dopo pochissimo è stato dimesso dal reparto. Il medico della pediatria ha confermato che non c'era nessun problema. È finita bene, ma un bimbo di 10 anni poteva rimetterci la vita per una caramella. È successo a Foiano della Chiana nella tarda mattinata. Un bimbo ha appunto ingerito una caramella gommosa, la madre si è accorta che non stava respirando ed ha subito chiamato il 118. Dall'altro capo del telefono, Luca Pancioni, infermiere della centrale operativa Retina, che ha dapprima cercato di calmare la donna, che era molto agitata. Superata questa prima fase, tranquillizzare la mamma, farmi capire che il mezzo di soccorso stava arrivando, nonostante rimanesse al telefono con me perché gli davo le prime istruzioni, ho chiesto se la sentivano di fare le istruzioni per la disostruzione delle vie aeree. Loro hanno confermato che le conoscevano e che il babbo aveva già iniziato a farle. Gli ho confermato che le manovre erano corrette quelle che stava facendo ed insistere. Hanno detto che il bambino stava diventando cianotico. Gli ho detto di continuare e di provare anche lo stimolo del vomito. Cioè queste manovre, se fatte in un modo un pochino più insistente, possono provocare il vomito. Il vomito comunque garantisce a volte una dislocazione del corpo estraneo. Dislocazione che c'è stata anche se in parte, quindi le manovre hanno funzionato, garantendo un minimo passaggio di flusso di aria. Fino a quando è arrivato il collega, l'infermiere che era nella postazione di Monte San Savino, che ha provveduto a ripeterle fino a una disostruzione completa. Importantissimo conoscere queste manovre se si ha un bimbo o un anziano in casa. Ci sono corsi dello stesso 118, delle pubbliche assistenze o addirittura dei pediatri che si possono seguire. Allora, cosa migliore da fare se non si conoscono le manovre è chiamare il 118. Il 118 in questi casi fa due cose. Dà delle istruzioni, cioè segue passo passo l'utente che ha bisogno, che chiama nell'eseguire queste manovre. Gli le fa eseguire, le guida nell'esecuzione di queste manovre. E nel frattempo l'operatore che le affianca invia il mezzo di soccorso. Queste sono le cose da fare. Chiamare il 118 e seguire le manovre. E se si conoscono? Se si conoscono si inizia a farle e poi comunque si chiama il 118. Perché nel frattempo non siamo sicuri che le manovre che facciamo funzionino. Quindi se funzionano è meglio annullare poi l'ambulanza che sta arrivando. Va bene? Però chiamare e iniziare le manovre se si conoscono.